Ci pensiamo noi, allora! Ash e Iris sono pronti a tutto per fermare il Team Plasma e il loro diavolico piano di controllo mentale dei Pokémon. Venite con noi senza fare storie. Ci riusciranno. Pikachu! Usa e Volvide! Non perderti i nuovi fantastici episodi di Pokémon Nero e Bianco, Avventure a Unima. Nessun mancioso può sfuggire al nostro team. Catturali questa volta, non lasciarteli scappare. Pokémon Nero e Bianco, Avventure a Unima. Da settembre, su K2. Grazie a tutti.